Veretù, bello il dribbling, ancora Veretù, allarga su Lorini, il cross dentro per Simeone, eccolo il ciolito, quinta rete in questo campionato per Giovanni Simeone, ma deve pagare almeno una pizza Lorini perché lì in mezzo gli è arrivato un cross perfetto al millimetro da parte del terzino destro della Fiorentina e allora Viola in vantaggio per 1-0 con l'incornata vincente del ciolito Giovanni Simeone, qua bella la giocata di Veretù che apre su Lorini, cross perfetto con il giro giusto per evitare l'intervento di Acerbi, ma per servire dritto sulla testa di Simeone un cioccolatino solamente da scartare, Simeone bravissimo a imprimere la giusta potenza, questa volta consigli, non può nulla Grazie